Momento di contatti e riflessioni in casa Brindisi per la costruzione del nuovo gruppo di lavoro e successivamente della Rosa che affronterà la stagione 2022-2023. Al momento l'unica certezza ed ufficializzazione è quella della scelta del nuovo direttore generale, con l'incarico affidato all'ex DG di Virtus Francavilla e Taranto Pierluigi Valentini. Il primo compito del nuovo direttore, così come affidato dall'Assemblea dei Soci svolta nella giornata di giovedì, sarà quello di individuare il nuovo direttore sportivo dopo la partenza di Nicola Dionisio. Il primo nome circolato è quello di Francesco Montervino, che ha terminato la sua avventura e arriva allo Ionio e con il quale ci sarebbe stato un primo contatto telefonico. Ovviamente al momento nulla di concreto, ma non escluso che le parti possano tornare a sentirsi o vedersi nei prossimi giorni. Una scelta che ovviamente condizionerà anche la decisione sull'affidamento della panchina bianca-azzurra. Infatti con il tecnico di Costanzo al momento sembra esserci una situazione di stand-by, con le parti che si sarebbero sentite sempre telefonicamente, ma che ancora non avrebbero fissato una data per un incontro conclusivo. Una pista che resta aperta, ma che al momento non sembra andare verso la direzione nella possibile riconferma. Su fronte ai calciatori, sicuramente al momento è prematuro ogni ragionamento, ma sono pochi gli atleti che dopo il 30 giugno resteranno vincolati al suo delizio adriatico tra rientri da prestiti e contratti annuali. E si tratterebbe solo di alcuni under e solo un paio di over. Non è quindi escluso che il nuovo Brini si possa cambiare profondamente volto in vista del prossimo campionato. La priorità ovviamente però della dirigenza adriatica è quella di chiudere la gestione della stagione appena terminata e giungere alla scelta del nuovo direttore sportivo per poi iniziare a valutare gli aspetti prettamente tecnici.